Avvocato Luigi Alfano, giovedì 12 lei sarà con i lavoratori del turismo a Roma per la protesta contro la nuova Naspi che sta creando una nuova categoria di poveri nel mondo degli operatori stagionali, dei lavoratori stagionali. Purtroppo le ultime settimane sono state scandite da notizie furbianti e quasi spot mediatici che non hanno sortito alcun effetto, innanzitutto inizialmente questa nuova indennità di disoccupazione per i nostri lavoratori, in particolar modo quelli impiegati nei lavori stagionali, soprattutto nel comparto turistico, quello che a noi interessa della penisola sorrentina, non a caso è stato creato un apposito forum e un gruppo anche di ascolto su Facebook, i lavoratori stagionali, dove tutti i lavoratori utilizzano anche i social per poter avere domande e risposte su questo annoso problema. Ultime notizie che provengono dall'Istituto Previdenziale e del quale il Governo ci ha assicurato che manterrà fede a questo emendamento per fare in modo che venga aumentata la nuova indennità di disoccupazione, la NASPI prevede addirittura, badate bene, il 70% della retribuzione netta fatta dal lavoratore nel comparto stagionale e anche turistico, dei primi tre mesi di retribuzione e di contribuzione. Il residuo, i residui tre mesi svolti dal lavoratore addirittura copre soltanto il 30%, badate bene, il 30%, quindi prendendo a parametro un lavoratore medio stagionale che ha un reddito netto in busta paga di 1200 euro con tre figli a carico e una moglie disoccupata, la domanda sorge spontanea, come fa a sbarcare il Lunario? È un uovo povero, non riuscirebbe mai con 600-500 euro a dover poter sostenere la propria famiglia nel residuo tempo degli altri sei mesi. Ecco perché la nostra proposta è quella e noi combatteremo a Roma per questo davanti a Montecitorio il 12 con tutti i lavoratori stagionali. Io sarò al loro fianco innanzitutto per far prevalere la nostra linea, quella di coprire, non segmentando il periodo dei tre mesi al 70% il residuo del 30%, ma quantomeno l'intero periodo dei sei mesi con l'importo del 70% se deve essere decurtato, ma almeno garantirebbe una normale sopravvivenza e poter sopravvivere anche in quegli altri restanti residui. Addirittura noi avevamo chiesto anche la totale copertura. Il governo inizialmente ha fatto un retrofront, adesso insisteremo per queste proposte di modifica e faremo in modo che a Montecitorio ci ascoltino i politici perché ricordatevi che la guerra è la lotta per un diritto sacro santo dei lavoratori stagionali e soprattutto una lotta per la salvaguardia di un diritto, quello di civiltà e per non creare una nuova schiera di nuovi poveri, appunto quello dei lavoratori stagionali. Grazie anche a voi.